La nomea di squadra indigesta, difficile da affrontare per chiunque, inizia a non bastare più. I Lions hanno disperato bisogno di punti per liberarsi dalle sabbie del fondo classifica. L'avvio di top 12 non è stato certamente tra i più morbidi, con i Leoni Piacentini che hanno affrontato in queste prime tre giornate le squadre candidate alla vittoria del campionato. Il prossimo avversario non sarà da meno. Mogliano, che i ragazzi di coach Garcia affronteranno domenica al Beltrametti, ha infatti collezionato esclusivamente vittorie con i marchigiani Bensaldi in terza posizione, l'ennesima prova del fuoco per Bruno e compagni. Sappiamo che è una mischia molto forte. L'anno scorso si è salvata principalmente grazie alla mischia che ha dominato molte partite. Quindi si giocherà molto lì, sperando di poter dare delle palle ai nostri tre quarti che stanno dimostrando di essere l'altezza tranquillamente di una top 12. Sicuramente è una partita molto fisica. Il campo, visto il tempo che abbiamo in questi giorni, sarà molto pesante. Quindi gli avanti avranno un compito molto molto duro, molto difficile. Parlando della squadra, come si stanno amalgamando i ragazzi? Stanno migliorando. L'ultima partita a Padova è stata, sotto certi punti di vista, incoraggiante. Perché si è visto un gioco, si è visto qualcosa di più rispetto alle partite amichevoli e alla prima di campionato. Quindi siamo fiduciosi che possa esserci una svolta, speriamo che sia, questa domenica. Nel frattempo, questo pomeriggio, il Beltrametti ospiterà per un allenamento gli scozzesi del Glasgow Warriors, con pagine militante in top 14, che si alleneranno nello Stadio Piacentino, in vista della sfida di domani contro le Zebre.